Ciao a tutti da Diego di Tecnoform.it Questo è un video registrato con il nuovo iPad La risoluzione è 1080p Abbiamo una fotocamera da 5 megapixel E registra fino a 30 fps Vedete, gestisce da solo sia lo zoom che la luminosità Andiamo a spostarci rapidamente Il formato è .mov Un saluto da Diego di Tecnoform